Ciao, sono Fabio Stagnani, conosco Alfio dal 2010, lo conobbi durante un master esterno e mi piacque subito il suo approccio. In quel momento facevo l'agente immobiliare, mi piaceva quello che facevo, però sono molto curioso e mi piaceva l'idea di conoscere anche qualcosa di diverso e di fare una sorta di upgrade. Ho iniziato a leggere, a seguire, fin tanto che, un po' di calma, nel 2015 ho partecipato al primo RichNow, che è l'attuale Wake Up Call. Dalla partecipazione del RichNow mi sono iscritto all'investimento in immobili, ho iniziato a operare, la prima operazione l'ho fatta l'anno successivo, da quel momento lì ad ora faccio solo questo, quindi faccio investimenti immobiliari e sono contento. Nel tempo le operazioni chiaramente si vanno ad affinare sempre di più, la tecnica anche, quindi nella prima operazione, pur andando bene ma con un ROI che non era soddisfacente per i canoni e per gli standard, adesso le operazioni mediamente vanno da un 30% di ROI in su e spesso il ROI è infinito perché lavoriamo con soldi di terzi. Mi piace l'idea di partecipare ai corsi e essere un lifetime per il fatto che posso frequentare un ambiente sempre potenziante, c'è sempre la possibilità di imparare, di crescere e di confrontarsi con persone che hanno avuto anche più risultati di me. Pertanto consiglio vivamente i corsi di Alfio Baratola.